Quali erano i suoi giochi preferiti? E dove andava per Tascuolo? Da nessuna parte finché non sono diventata ragazzina da andare a ballare che andavo poi a ballare con i miei fratelli nelle case così, la dove andavamo da Frascan, più di tutto là abbiamo ballato, ci andavo poi con i miei fratelli perché mio babbo era un po' severo e allora quando volevo andare a ballare, eravamo tutti a tavola a mangiare, babbo vado a ballare domani sera e ci sei stata anche ieri sabato e dopo mio fratello, babbo viene con noi e allora mi lasciava andare altrimenti quando hanno rinnovato la sala qui a Campotto non sono mica andato io a ballare perché non mi ha fatto il vestito. Come infanzia non è che abbia fatto una grande infanzia all'infuori andando a ballare la sera così, o andare in piazza un giorno insieme alle mie amiche e del resto siamo andati al cinema argente, mi ricordo che andavamo al cinema argente, in bicicletta e poi una sera, una notte venire a casa sono rimasta anche a piedi perché erano, era sterrata, era bianca, tutta viaia, dopo uno mi ha preso su, quell'altro mio marito mi ha preso su, quell'altro ha preso la bicicletta e allora sì, non abbiamo perso tempo a girare a piedi, comunque sono stati bei anni ecco.